salve finalmente sono riuscito a ottimare il mio lavoro che è durato circa otto mesi di questa casetta per i porcellini indiani questa sarà la loro dimora per l'inverno perché la caratteristica di questa di questa struttura è il fatto che ha due riscaldatori a silicio con due sensori di s che sono sensori di temperatura digitale e vengono gestiti da questo dispositivo che utilizza un pic che che è programmato quindi quando la temperatura scenderà di sotto di 17 gradi due le piloteranno i due riscaldatori a silicio perché i due riscaldatori sono a 220 però hanno una doppia un doppio isolamento elettrico quindi non c'è rischio che ci sia qualche problema di salute per i due porcellini che aggiungere adesso vi faccio vedere con l'uso di un phon come funziona cioè con come si alza la temperatura l'unico problema è che non posso far vedere i momenti in cui pilota i perché per abbassare la temperatura non so come fare ho provato con il ghiaccio ma non riesco a raggiungere il sensore ok adesso passo direttamente con la zoomata via con i zoom ok Grazie a tutti. Grazie a tutti.